A di saper gestire i giocatori di un certo tipo, B quasi di volerlo fare, freggiandosi del fatto che con noi i giocatori cambiano e riusciamo a gestirli meglio, sia proprio il Milan. Io sinceramente penso che questa sia la strada che il Milan e anche il Manchester City intraprenderanno questo stadio. Faccio un passo avanti, vado oltre, premetto che è tutta fantasia mia, però dato che nel momento in cui era stato venduto Balotelli, l'Inter aveva inserito una clausola nella quale si diceva che non poteva andare al Milan. Allora io dico, una carta di scambio in questo caso potrebbe essere Tevez, nel senso che magari l'Inter l'anno prossimo va su un attaccante molto forte, il Milan fa un passo indietro, il City fa un favore all'Inter, è tutta fantasia oppure ci può fare? No, no, può essere, può essere. Io non escludo neanche che il City li venda tutti e due, cioè si liberi di tutti e due i giocatori. Il City sta cercando un altro tipo di giocatore in questo momento. Nel weekend Mancini è andato a vedere...